eh 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 com'è? oh allora com'è Iemo? eh dopo riveci com'è Iemo? mannaggia eh ciao ecco uno brigandone come sta la signora? ma la saluti tanto eh? beh maschio! oh via sbrigammeci su che Marvenne e Billy da caccia dopo si trova amministrato quello diventa una veste allora signori che non siete d'accordo lo sapemo ma sue politiche agricole proprio fate a schiaffi ci spiegate come la pensate? eh io un tanto ti ringrazio per sta domanda del merda ma a me sembra questa mi chiedete? eh che me penso io sulla politica agricola? io penso che tocca da meno pesticidi meno monnezza perchè sta roba armagnamo fa male! un dandine verde rame e un dandine bordolese a rotazione il dano... e un idriolo? anche! no come dice quella che che ne sa quella d'orto i trattamenti sono come antibiotici tocca piagli ora a tempo una volta ti scordi te si inculano allora niente ora ti rispondo subito a tono noi con Billy l'orto ce l'hiamo sempre avuto piccolito caruccio dietro la casa bianca lo chiamiamo l'orto bianco infatti siamo tutti zappa bianca pala bianca tutto bianco abbiamo fatto ecco e un po' quell'anni Billy ci ha andato a fare con la zappetta mi ricordo un bucio di culo però ti dirò con lo stabio di quelle pure fere che teniamo no? che le tengono tutti c'è uno stallito bianco chiamiamo oh! non ci crederai c'è venino certi fumitori che erano le sette bellezze allora non hai capito niente allora tu forse proprio non sai come se forni i fumitori perché ci vuole quello congime io vi ho sempre i despitella fino fino che mi ti dà una pianta e un'altra quella lì ne basta una frangata dico! è terribile! allora adesso siamo arrivati alle battute conclusive no? una domanda importante voglio fare a te in particolare cosa serve l'America per tornare a essere l'America? allora ve lo dico subito quello che ci vuole secondo me per far tornare grande l'America ci vuole principi morali educazione, rispetto tutto quello che una volta ci insegnavano no? se vi ricordate i nonni nostri ecco principi morali la moralità, l'educazione a vecchia e tanda più